salve a tutti cari amici bentornati sul canale allora per chi non mi conoscesse il mio nome è domenico vivo a dublino da 11 anni e ho aiuto i connazionali che vogliono emigrare venire qui in irlanda quindi se volete aiuto con corsi d'inglese con curriculum colloquio di lavoro mi potete contattare alla meta in descrizione ma adesso bando alle ciance di cosa parliamo oggi parleremo come avete visto dal titolo dei cinque vantaggi del lavorare qui in irlanda ok vantaggi rispetto all'italia diciamo ma anche cose che sono buone a livello proprio assoluto ok quindi la prima cosa che ho per voi è avere un salario minimo ok che in italia c'è non c'è diciamo dei contratti collettivi però a volte non vengono applicati quindi diciamo che non c'è è lina di massima ok qui invece in irlanda c'è ed è 12 e 70 all'ora lordi ok che poi netti quando prendete 12 70 all'ora guadagnate comunque una cifra che non è tassata molto quindi le tasse sono veramente base su stipendi non molto alti quindi andrete a prendere un netto di 11 euro all'ora su quel 12 e 70 ok e questo salario minimo perché è buono perché il salario minimo garantisce diciamo una corsa al rialzo perdonatemi questa licenza poetica ok perché in italia c'è una corsa al ribasso non essendoci un salario minimo vince diciamo fra virgolette chi paga di meno ok invece qui in irlanda essendoci un salario minimo che cosa succede succede che se voi non offrite un salario che sia un salario degno le persone non vengono a lavorare perché per esempio se voi avete un ufficio e voi volete prendere qualcuno a lavorare per fare un lavoro molto complesso e pagate e poco quello non ci viene perché è meglio andare a fare il cameriere prendere il salario minimo avete molto meno responsabilità quindi dovete fare però lavoro più complesso dovete pagare di più ok più del minimo ok che già è alto e quindi questa è una cosa molto buona la seconda cosa il secondo vantaggio di lavorare in irlanda secondo me è la flessibilità quindi se voi lavorate in irlanda voi vedete dei vantaggi come per esempio lavorare da casa alcuni giorni a settimana molte aziende si lavora due tre giorni a settimana da casa e poi si va al resto in ufficio che ho nel posto di lavoro va bene non tutti i lavori e lavori d'ufficio sì ma se lavorate per esempio verso un ospedale una fabbrica allora non non si applica questa cosa dipende dal lavoro che però lavori tradizionali sono molto flessibili va bene poi c'è anche il flexi time in irlanda che è molto popolare per esempio flexi time significa che voi potete iniziare a lavorare dalle otto alle dieci e poi lavorate le vostre sette ore e mezza 8 ore quante che dovete lavorare poi staccate venite a casa ok quindi se perdete l'autobus la mattina non dovete preoccupare più di tanto perché potete prendere quello dopo oppure potete iniziare presto e finire presto che poi dipende però è un gran vantaggio secondo me non siete non siete mai in ritardo ok e poi potete finire anche prima le 5 anche le 4 e mezzo alle 4 dipende da quando iniziate ok quindi quello è un grande è un gran bel vantaggio che questa flessibilità al lavoro che c'è un'altra un'altra cosa è la possibilità di far carriera in irlanda ok in molti lavori e qui essendoci un turnover molto alto di persona un ricambio di persone è facile che il vostro supervisore se ne vada e magari voi siete la persona più anziana del team che prendete questo posto quindi avanzate di carriera oppure essendo l'economia molto attiva si creano proprio dei posti di lavoro ok quindi si espande ci si espande l'economia qui si espande quindi magari il vostro ufficio ha bisogno di più personale per mansioni diciamo più strutturate e magari se voi siete un bravo lavoratore prendono voi ok quindi io sono stato promosso varie volte al lavoro anche dopo sei mesi che il lavoro è stato promosso ho avuto un incremento di stipendio e ho avuto anche diciamo un trattamento migliore più benefit perché avevo livello più alto quindi ecco è una cosa molto molto importante e ci è questa carriera ci metto insieme la meritocrazia quindi qui in irlanda si fa carriera perché perché si è bravi non si fa carriera perché devono promuovere tizio perché tizio è amico di caio si promuoviamo tizio perché tizio sa fare il lavoro è questo punto è basso non c'è non c'è niente anche quando si fa un colloquio lavoro se sì se si è validi si prende il lavoro se no non si prende e questo è questo come dovrebbe funzionare dappertutto insomma poi è un'altra cosa è che al lavoro molte volte ci sono dei corsi pagati quindi se voi per esempio lavorate in finanza o anche di un'altra cosa che avete interesse a fare un corso che potrebbe dare un beneficio al vostro datore di lavoro qui in irlanda i datori di lavoro sono molto propensi a pagare questi corsi quindi se voi volete fare un corso in finanza un corso in contabilità perché un elemento del vostro lavoro richiede delle conoscenze in questi settori i datori sono molto molto propensi a pagarvi questo corso perché potrebbe beneficiare anche loro come 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 azienda ok e quindi una cosa molto importante perché potete studiare potete imparare cose nuove che magari non vi possono insegnare in azienda ok o magari dovete prendere un diploma che poi vi servirà lavoro perché dovete firmare una cosa specifica dovete avere col titolo specifico ve lo fanno prendere ok quindi importante poi l'ultima cosa l'ultimo ma non ultimo insomma è che in irlanda allora si fanno dei contratti che sono dei contratti veri allora qui apro una parentesi in italia quando siete a tempo indeterminato siete in pratica molto difficile da licenziare anche se l'articolo 18 è stato diciamo un po' bombardato in questi anni però si ha ancora una protezione in italia che magari in irlanda non sia tanto che in irlanda è più facile venire licenziati se le vostre performance non sono adeguate in italia no almeno che non facciate una cosa di e calatante non vi non vi non vi possono mandar via ok invece qui vi possono mandar via però la differenza è che qui non ci sono contratti diciamo un po' così campati per aria contratti un po' fasulli ok quindi contratti precari che ne so lavoro a progetto lavoro a chiamata tutti questi tempo determinato qui è più normale un tempo indeterminato che poi si vi ripeto tempo indeterminato fino a quando o non vi licenziano o non date voi notice ok qui si dice you are as good as your notice period quindi in pratica sei protetto solamente dal periodo di notice però i contratti sono easy come easy go quindi li prendi facilmente i lavori li perdi facilmente ottene via o te licenzi insomma però con questi contratti a tempo indeterminato irlandesi hai più accesso al credito quindi puoi fare un mutuo e poi prendere soldi dalla banca e sei visto meglio anche nelle referenze per affittar casa ok quindi diciamo che avere un contratto a tempo indeterminato vi date le garanzie ed è facile averlo ok che è un contratto vero e proprio va bene allora questi sono un po' ricapitolando diciamo i vantaggi del lavorare in irlanda quindi facciamo un recap veloce quindi primo vantaggio salario minimo secondo vantaggio flessibilità terzo vantaggio carriera e meritograzia quarto vantaggio corsi pagati e l'ultimo vantaggio che sono avere dei contratti che sono contratti veri ok e che poi sono contratti che si fanno ok che non si lavora senza contratto si lavora con un contratto qui in irlanda quindi che cosa porta questo ultimo punto che mi sono dimenticato porta che voi avrete dei contributi versati porta che avrete anche diritto alla disoccupazione porta che voi avrete anche dei servizi gratis per esempio pagando la pensione qui in irlanda PRSI avete al dentista gratis una volta all'anno una visita oculistica gratis una volta all'anno quindi benefici che non pagando le tasse voi non avreste ok quindi ragazzi questi sono i benefici secondo me se ne avete di più fatemi sapere ricordatevi di contattarmi se volete sapere di più dell'irlanda e vi auguro una buona serata ciao a tutti ciao 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 ciao